Con il numero 70, Gatti, Melissa, Priezza e Lanico. Ora il turno è 20, Claudia, Rottifetto, Robert Pinto. 32, Rottifetto, Isigiocia, Pabellese, 24, Di Betto, Angela, Rottifetto, Perliscio. College della Panaglia, Granaglia, Rottifetto, l'Aziente, Federico Pinto. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 attenzione. attenzione. nella finale. 5.000 punti junior maschi. c'è un errore di stampa. al posto del 38 soliani che non doveva esserci. mentre deve stare in finale il numero 4 di Scioscio. c'era l'errore stato trascritto il numero 38 soliani. invece è il numero 4 di Scioscio. ed. 3. Vendato la finale sopra. 32 madri e 38 bank di 35 passando sono 36 amano кварanta per di nero si 44 a texta 33 alattori 4 a il Questa è la finale della 5.000 punti di Unione Europea. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 59,14. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. so. a tutti. A passaggio 20,5-6 Quattro a passaggio 5 è il numero 14,5-5 Siamo a votare la campagna 1,4 Siamo a votare la campagna 1,5-6 Siamo a votare la campagna 1,5-6 Siamo a votare la campagna 1,5-6 Grazie. 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 Siamo ai punti. Contatto. Il versetto è l'angelo che non è solo l'impatto. L'usaglio. Stiamo avendo per il porto di sicura, sicuro messaggio. La campagna è il numero 13. La campagna, il prossimo passaggio ci sono tutti i video perci. E' sempre un numero che non è solo il porto di giudicare. Sono due o tre di atleti che stanno convincendo l'arco per la Luziana per prendere la prima posizione. E' una maniera delle sue spalle. E' sempre un numero. E' sempre un numero. Siamo alla campagna. 10 giri da 2 russi. Continua con la giornata. La propria classifica. Due atleti. E' sempre un primo uomo. E' sempre una selezione. 3 punti. 28. Usiamo il suo numero 3. Due atleti. Continua con la giornata. Per prendere la prima posizione. Siamo in giro con il primo uomo. Il prossimo passaggio. Ma è la campagna. Di quello sempre è il passaggio. Ci sono una campagna. 7 giri nella confunzione. Sempre due. Adesso è la prima posizione. E' una passaggio. Per nuova. Siamo in giro con i punti. Nel muscle. Perchè la ruta da Votoré, una vala insomma di un po' la brucia. Ora la Luciani a portare il valentatore di Luciani che sta affettandola nella forza la campagna, il tempo 4, 4 giugni alla propulsione, ancora la Luciani Corazzo, la prossima passaggio sono i punti, 3 giugni alla propulsione, e la 1 del 8, Luciani su 1, 2, 3, 1, entriamo i minuti di 2 giugni al prossimo passaggio, 2 giugni alla propulsione, prossima passaggio è la campagna per l'ultimo giugno, direi un grande applauso, direi che hanno fatto mangiare la stupenda, le prete, siamo arrivati al prossimo giugno, arrivo, e l'ultimo per l'ultimo giugno. Per l'ultimo giugno, 5128, 44, subito. Grazie. Adizione, rettifichiamo morti dell'arrivo dell'ultimo giro, la numero 44, per scorrettezza viene retrocessa, dal secondo al terzo posto, pertanto, nell'ordine, l'arrivo è, prima la numero 28, seconda la numero 3, terza la numero 44, per gli ultimi punti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ora il primo fine di tutti, il primo votato, con l'alimentazione di Martini sul 4-4. Ecco ora la prima posizione, Martini in seconda, hanno fornito quasi un mezzo giro, la prima posizione, Martini in seconda, la prima posizione, la prima posizione, Martini in seconda, la prima posizione, la prima posizione, la prima posizione, la prima posizione, una volta per la gara di Dio Berlino che non si sono morti a loro, Fuglia si chiama la gara di Dio Berlino del Tocco, punti al passaggio del ruolo del Tocco con una seconda, su punto il 5, Martina, si alternano nella posizione della gara ancora Martina a perdere la prima posizione, con la seconda, si andrà a camara di meno 25, mi viene a camara, mette la risata, ancora 3.57, allora meglio, siamo morti a tutti di meno 24 al passaggio. E' il numero 5, Martina, solo il 28 quadro, più di meno 25, mi viene a camara di Dio Berlino del Tocco, per il primo attivare la gara di Dio Berlino del Tocco, per il primo attivare la gara di Dio Berlino, Gli ma d'amtivare la gara di Dio Berlino del Tocco, con il primo attivare la gara di Dio Berlino, se haong OH Ibiza! Per il primo attivare la gara di Dio Berlino del Tocco, con il primo attivare la gara di Dio Berlino del Tocco, con il primo attivare la gara di gibe буду! Carvalho di Milano vicinato la prima parte, la testa torna le sue strade, siamo ora i tuoi di Milano e per il contatto con uno e il suo numero cinque di mattina e il governo deve apportare una nuova scelta che la parte di Milano ci sono i nostri spessi e il governo è il tuo numero cinque di mattina Il primo giudice è il momento di rispondere a Dottorzio. Il quarto giudice è il momento di rispondere a Dottorzio. Il quarto giudice è la passata della casa. Il quarto giudice è il primo giudice. Il prossimo giudice è il primo giudice. Il primo giudice è il primo giudice è il primo giudice. Il primo giudice è il primo giudice è il primo giudice. Il primo giudice è il primo giudice è il primo giudice. Il primo giudice è il primo giudice è il primo giudice. Il primo giudice è il primo giudice è il primo giudice. Il primo giudice è il primo giudice è il primo giudice. Il primo giudice è il primo giudice è il primo giudice. Siamo ai punti, ai punti di numero 9, due punti fermi da un po' con l'ora, un punto con il numero 5, Mardini. Siamo in fine a un po' con l'ora, questa è la parola. Siamo in fine a un po' con l'ora, un po' con il numero 5, Mardini. Siamo in fine a un po' con l'ora, un po' con l'ora, un po' con l'ora, un po' con l'ora, un po' con l'ora. Siamo in fine a un po' con l'ora, un po' con l'ora, un po' con l'ora, un po' con l'ora, un po' con l'ora. Siamo in fine a un po' con l'ora, un po' con l'ora, un po' con l'ora. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.